Non ce la faccio più, sto raggiungendo il limite massimo della mia pazienza disponibile all'interno di questo videogame Ho fatto dei calcoli, innanzitutto benvenuti o bentornati all'interno del mio canale Se non sei ancora iscritto iscriviti Siamo tornati con l'ennesimo episodio delle mimetiche su Modern Warfare 3 In attesa di raggiungere il Valhalla In attesa di raggiungere la mimetica interstellare Che sembra un'agonia Io quando ho iniziato questa serie tutto mi aspettavo tranne che durasse così tanto Non so neanche quanti episodi sono stati realizzati Credo troppi Oggi però siamo tornati qui per le ultime due mimetiche dei mitraioni Prima di iniziare lasciami un like, un commento Nei commenti per favore scrivimi qualcosa di cui andremo a parlare fra pochissimo Ma nel frattempo se vuoi tenere calda la sezione dei commenti Insulta quello che ha lasciato il commento prima di te Oggi siamo tornati qui perché l'altra volta abbiamo fatto il Bruen e il DG Oggi ci mancano il TAC e l'Holger Le sfide in realtà sono le stesse delle altre armi Solo che ne mancano un sacco Quindi oggi non possiamo farla forgiato, mi dispiace Per il TAC dobbiamo fare 10 uccisioni con penetrazione che saranno un tumore 10 uccisioni imperatore usando TAC e volvere con gli accessori al massimo Non capisco perché non me le abbia contate e gli accessori sono al massimo 5 doppie rimanenti più quella oro che è vabbè la classica Per l'Holger 9 con penetrazione 6 doppie e poi quella dell'oro quindi va bene chi se ne frega Vogliamo iniziare da questa che ci mettiamo di meno? No iniziamo dall'altra che ci mettiamo di più Vi rendete conto che siamo praticamente a giugno? Ci vediamo in game Emergency non so sinceramente dove fare le cose con penetrazione Infatti credo che non le faremo qui Bentornati anche questa settimana eh Vi era mancato Call of Duty? A me no O forse un po' si in realtà mi sto divertendo a giocare a code Anzi il fatto che sto utilizzando questa roba come scusa per Questo non può non essere con penetrazione Ok capo Il fatto che sto usando le mimetiche come scusa per giocarci Secondo me è abbastanza worth Non si buca quello se Cioè davvero quello non si buca Oh merda Come fanno bucasse quel coso? Ma non è che il silenziatore leva la penetrazione proiettili? Ah tra l'altro dopo metto le... Faccio vedere cosa ho imparato finalmente Ok doppia L'importante è fare anche le doppie Bisogna fare un po' di roba Comunque oggi come al solito non ho argomenti Ma voglio parlare di soldi Quanto sono importanti secondo voi i soldi al mondo di oggi? Perché la gente dà così tanta importanza al cash Ai soldi Al dio danaro Soprattutto secondo voi quanto guadagno dai video di COD? Secondo voi sono un malato mentale? Ma questo? Secondo voi sono malato? Che faccio i video gratis? Oppure sono semplicemente un grande coglione? Eh questa è una grossa domanda Guarda quello No non si buca niente zia Ma non buco nulla? Non buco nessun muro? Ma questo? Madonna cristo Aspetta che qua devo liberare la situazione Secondo voi quanto sono importanti i soldi? Domanda 1 Domanda 2 Se fate qualcosa che effettivamente vi piace CODO Il primo concorso Ok quindi lì è uno spot eh Attenzione Poi fareste un lavoro in cui Che vi piace ma che vi pagano poco Io vi faccio questo esempio Quando ero un giovane ragazzo denso di vita Ho fatto per un po' il Come qualcuno magari sa Il bartender Complimenta gratis Perché ho fatto uno stage Uno stage gratuito Ok doppie fatte Ho fatto uno stage gratuito Che però l'ho fatto O non con troppa voglia Scusate se campiono un attimo Lo sapevo O non con troppa voglia però Manco con schifo no? Perché comunque alla fine stavo per fare Una cosa che poteva piacermi no? E cose del genere Però lì lo feci anche gratis Un po' perché Poteva essere un investimento per Per il futuro Questo mi ha rotto i coglioni C'è un La vedi la Claymore? No Allora ragazzi Mo ci stiamo a fare un po' più Mi ha per culo da questi A me me va bene Però fino a una certa Ok Non fa Non si è buca niente Come fa Non buca se niente Come fa Una sta sempre dietro Ho fatto un lavoro Praticamente gratis Semplicemente perché mi piaceva World No perché alla fine Non mi hanno preso Quindi in realtà Ho sprecato un mese da vita mia Però ecco lì C'era quella situazione In cui Potevi fare Un lavoro gratis Ma che poi Poteva Regalarti Che ne so Un futuro Un qualcosa Quello calcolare investimento Triplo headshot bro Ma che sono? Per voi è un investimento Il tempo? Questa è la vera domanda Su me è una buona forma Di investimento Il tempo Chi vi dice che il tempo Non è Non perché il tempo Sia denaro Ma perché Effettivamente Secondo me È la cosa più Preziosa che avete No? Ok ho linebot Ah Forse c'era lui Linebot frate Comunque ne ho fatta una Con penetrazione Sai che vuol dire una frate Ne ho fatta una Ok godo un'altra Complimenta randomica Ma va bene Importante falle Sempre uno dietro Io vi giuro Non capisco come sia possibile Che ci sono delle partite Così confuse Vabbè che ha prima Quindi non so giocare Però E io Sto sparando coriandoli Basta lamentasse Stiamo solo a lamentare qua Buono te Buono quattro Doppia così Va benissimo La doppia così Oh dietro Godo Dove cazzo è il coglione Buonissimo Zino abbiamo fatte tantissime Tutte qui Buono Nel cazzo Bisognava sfruttare più sto coso Sto corridoio Madonna dio Ne cazzo di angoli Buono Ok un altro me l'ha dato Qua è perfetto È da dietro però Non ci credo Ma sono girato sempre lui La mappa è buona in realtà Quello spot è buono Non sta mappa Sempre lui Si porco Buono Buono Completamente a caso Eh poteva essere anche questo Peccato Se me ne mancano uno Due Non troppo Non troppi di più Ma guardate Guardati tu Guardati tu E frate secondo me Non ho fatti 10 Madonna si Che culo Con una partita sola Tutto mi poteva aspettare Tranne di farlo Quali mi mancano Come goto Come goto Come goto Spera se è questa Così mi dicono che ho line bot In realtà c'era solo avanzato Guarda che è una grande prestazione questa Tu ci scherzi Vediamo la situazione Uh tac evolvere con gli accessori al massimo Si Non me la do Ah ecco che volevo fare Aggiungere gli elementi seguiti Così posso vedere la sfida Cazzo Cos'è che non è considerato accessorio Ho cercato un po' su internet Dicono che le ammo Non contano come attachment Però Togliamo senza problemi Mettiamo un Sottocanna qualsiasi Proviamo Vediamo un po' Perché ho letto che si bug a volte Quindi Boh Capiamo Vabbè comunque mancano solo le 10 kill così E poi 10 kill Senza lasciare l'arma Quindi tecnicamente noi Possiamo anche fare 20 kill Abbiamo finito La prima arma Che non è male Ci vediamo in game eh C'è un coglione Perché non ho fatto le mappe piccole Fin da subito Allora me le son messe tutte lì eh Quindi me serve Tac Ulger Ulger Ok 8 doppie Senza lasciare lo sborrificatore Peccato che però è Quella cazzo di modalità di merda Di uccisione confermata Qualcuno 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 Merda era lì Te prego Qualcuno che spunta Zia Niente Non spunta un cazzo di nessuno Perché siete tutti lì Ok una fatta Ma che fatica Zia però eh Tu fa 7 Te prego Che culo Dei coglioni un attimo Scusatemi Ah Godo Trocca a tagliare la casa in due Tutti qua Come godo Ma come posso godere Se gode Basta Questa ha rotto i coglioni Con questi coltellini Magari si rinfila nel culo La madre Con la troia Ladra Me ne mancano ancora 6 Zia Non li farò mai Porco Prodo 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 1-5 Si ammazza Mi ammazza Sto a metà Su un'agonia Questa roba Comunque abbiamo perso il focus Sull'argomento principale Che erano i soldi Però aspettate un attimo C'è nessuno lì Ovviamente Perché mai dovrebbero Ah ma c'era uno lì Madonna che culo Ma che m'ha contato Ma che m'ha contato Ok va bene Va bene Va bene All guerra 10 doppie Penetrazione 10 doppie Penetrazione Oh ma È un casino Quest'arma Sti cazzi Vabbè Sì dai Lasciam perdere Me ne conta due No me ne conta Come se fosse una Questa è una doppia Per forza Ok questa è una doppia Sarebbe il top Farne una ora Cioè finì sta sfida ora Manca Eh ma due doppie Non le farò mai No due doppie Contro il limite Del super saiyan Una doppia Manca una Ve prego Si gode Bene 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 Importante averle fatte Il più possibile Ma ha sbloccato Quelli indorato Completamente a caso Che ha svoltato la serata Vediamo la situazione Solo 8 con penetrazione E poi quelle Senza lasciare Il grilletto Ed è buono Prossima partita Mi fa male la testa Terminal Ce ne mancano 8 Che bello adesso Che ho scoperto Come si mette la schermata lì Ce ne mancano 8 E poi 10 Senza lasciare il mirino Però concentriamoci Sulle 8 Perché poi quelle Senza lasciare Andiamo su una mappa Minuscola E le facciamo Allora Terminal Tecnicamente Non dovrebbe essere Troppo un problema Però sarebbe carino farle Questo non si è buca Merda Godo Stupido Modo si trova sempre Sì Modo lo trovi sempre Del tuo modo lo trovi sempre Sei avanti Questo peccato Ho mirato male io È la cumbia della sborra Non si è buca Ma dai No E dai Stai fermo Comunque stavo parlando di soldi Perché sono così importanti i soldi Perché la gente li cerca Soprattutto perché La gente se fa così tanti cazzi dell'arte Su quanti soldi guadagnano Guardate che è strana Come situazione Se ci pensate Godo Ah che grande Magari ti muore il padre E dammelo Con il porca troia Di cazzo Nel culo Del buco Del culo Dai Dai dammelo Non muore Protetto da dio Non si è buca Mori oh Buonissimo Mancano sei Cinque punti Hiamo fatto però Sì Cinque punti Capisci che sono pochi No Mori Incredibile E non me l'ha dato alla fine Alla fine Non me l'ha neanche dato No rega però Cinque a centocinquanta Partita di merda Con una squadra Inutile Inutile rega In tre Non sono mai entrato in postazione Stiamo a metà Stiamo ancora a metà Stringere i tempi Caras Le mie speranze sono attonite Il problema delle cose da fare con I cosi perforanti Che dipende dalla mappa Questo come fa a non essere Spiegamelo Godo Uno fatto Sto coglione ho Meno 4 Io continuo a non mettere le cose però Delle munizioni Sono un coglione Massacratemi Massacratemi di cazzi Vi prego No me l'ha contato Non so perché ma me l'ha contato Meno 3 Quell'altra ovviamente per fare l'altra Quitiamo E faccio E andiamo Eh contami anche questa però E andiamo a farla In una mappa piccola Perché ovviamente è impossibile Farla su caraci Quell'altra Dai frate dei morì Dai frate dei morì però Dei morì Ok Meno 2 Come godo Uno No non è vero Non è vero Me ne mancava Me ne mancava Vabbè In realtà porrei andarmene Si esco Ci mettiamo sulla mappa piccola E facciamo le 10 Senza mollare il grilletto E ce ne andiamo a casa Prossima partita Un'agonia Tu ci sei un operatore Senza mollare il grilletto Io magari l'ho capita male io Merda il dominio però Sti cazzi Basta che non Mi fate incazzare Goto uno Ok 2 Ok Ho fatto un'altra credo Ok goto Mancano 6 Ok stiamo a metà Ce la dovremmo fare senza problemi Dai Goto Un po' imbottata questa Ma va bene Mancano 3 2 1 Me ne manca uno Manca una sola Non è morto Zzi non ci credo Dai Quello aveva avanzato Su me Gli si aggiunge la vieta So convinto Ma come indorato Ma perché mi la sblocca Ma non è vero Ma è tutto buggato Vabbè goto Te ne affanculo dai Fatto Andiamole a vedere Il tac evolvere Molto carino I mitraglioni oro Devo dire Mi danno un senso di rambo Abbastanza possente Questa è la prima E poi abbiamo l'olger Che vabbè Carina anche questa Niente di che Ma la cosa più importante È che ce l'abbiamo fatta A finirle Nel prossimo episodio Faremo finalmente La forgiato Dei mitraglioni Che sarà l'ultima forgiato Delle armi primarie Da non sottovalutare Io non vi dico Che il viaggio è quasi finito Però Speriamo di finirlo Il prima possibile Perché sta durando un macello Grazie mille a tutti per il supporto La state vedendo ancora Quindi a me fa piacere Non credo esistano altri video Del multiplayer di mv3 Su youtube In generale Tutti che giocano a warzone Merde Grazie mille a tutti Ci sentiamo domani Con un nuovo video Settimana prossima Con un nuovo appuntamento Delle mimetiche Ciao